Allora, mister Aiello, cosa ci racconti della partita di oggi? Tra il colstando di Sviderio, lo dico bene, siamo andati in ventaglio 3-0, poi la mia squadra ha sempre il solito difetto, giochiamo molto bene, poi però sono giovani, manca un uomo di personalità che prende il manno alle regine. Loro sono molto forti, hanno giocato sulle loro caratteristiche, non sono lì per caso, hanno tutta la gente di qualità, però ho preso un punto colstando e va bene. Al 93esimo? Eh va bene, ci sta, fa parte del gioco, va bene, sono contento, è tutta una lezione che entra, tutta arte che entra per i miei ragazzi. L'iniziativa prima della partita? Sì, abbiamo pensato di fare questo gesto simbolico, però piacevole, abbiamo tutto il diritto del Presidente e dei giocatori, siamo fatti questo piccolo segno rosso in faccia perché pensiamo che sia una cosa giusta e dovuta.